Stavo discutendo con la valutazione del vostro prevedente se il tartufo molisano si vende anche ad Alba. No, magari è vero, non voglio mettere indiscussione, non vi arrabbiate, già che c'è la polemica sul turismo ora ci ritorno, devo dire tra di tanto grazie di cuore, grazie per l'accoglienza, grazie magnifico rettore per il vostro lavoro.